diritto di prelazione del comune sulle quote private di sistema ambiente la rinuncia ufficiale arriverà nella seduta del consiglio comunale tuttora in corso ma i giochi sembrano già fatti come ha spiegato il sindaco Mario Pardini in commissione partecipato se l'amministrazione comunale esercitasse il diritto di prelazione porterebbe automaticamente sistema ambiente a confluire il rete ambiente se al contrario rinunciasse il comune manterrebbe la titolarità fino al 2029 dopodiché confluirebbe comunque il rete ambiente le quote del socio privato di sistema ambiente sono state vendute all'asta e ad aggiudicarsele è stata la multi utility IREN per 2,4 milioni di euro alla fine del periodo di salvaguardia la parte pubblica dovrà corrispondere a IREN una cifra parametrata al patrimonio netto dell'azienda attualizzato al 2029 critica sulla scelta l'opposizione che taccia la maggioranza di troppa fretta e superficialità